E a proposito di poeti, perché qui dentro ce ne sono tantissimi, voglio concludere proprio riferendomi ai poeti, sempre dando un mio contributo linguistico. A proposito di poesia, desidero fare un approfondimento. Il linguaggio poetico non può essere considerato modello di lingua, poiché la poesia pone al centro alcune regole fondamentali come ritmo, suono, medica, che richiedono una tena a disposizione delle parole per trasmettere significati ed emozioni al lettore. Nel mondo affascinante della poesia, il linguaggio assume una nuova forma, una melodia che danza tra le righe. La poesia non può essere ridotta a un semplice modello di lingua, poiché la sua essenza risiede nella creazione di un'esperienza emotiva unica per il lettore. La poesia infatti abbraccia regole e convenzioni speciali che le permettono di trasmettere la bellezza dell'espressione. Il ritmo, come un attimo cardiaco costante, guida il flusso del linguaggio poetico. Le parole si intrecciano in un implicato gioco di suoni e pause, creando una sinfonia di sensazioni. La musicalità delle parole nella poesia è fondamentale per evocare emozioni e creare un'atmosfera particolare. Le rime, gli accenti e la cadenza delle parole contribuiscono a generare un ritmo unico che risuona nell'anima del lettore. La metrica, soprattutto per chi scrive rima, per i dirrimatori, un'antica regola poetica aggiunge un'olteriore complessità e bellezza al linguaggio poetico. I vesti si compongono seguendo schemi specifici, come il sole o la pezzina, creando una struttura armonica che dona equilibrio alla poesia. Queste regole non limitano la creatività. Ecco, la creatività. Molte dicono, sul rimatore cambiate, no. Queste regole non limitano la creatività, ma fungono da guida per dare forma all'espressione poetica e rendere i versi un'opera d'arte. La poesia è un connubio, una simbiosi perfetta di contenuto e di forma. Tuttavia, nel cuore della poesia si trova l'essenza del significato e delle emozioni. Le parole devono essere disposte con cura. Diceva Crescenti, anziché utilizzare il pronome che ci apprende l'aggettivo, smontate il verso, rifatelo, rifatelo. Le parole devono essere disposte con cura e precisione, come gemme preziose incastonate in una corona per trasmettere al lettore il messaggio del poeta. La scelta delle parole, la loro disposizione e la loro interazione sono fondamentali per creare immagini vivide e coinvolgenti che toccano il cuore dell'anima del lettore. Perciò il linguaggio poetico non può essere considerato un semplice modello di lingua, poiché va al di là delle regole grammaticali e si immerge nell'arte della comunicazione emotiva. La poesia è una forma di espressione che si nutre nella bellezza del suono e nella disposizione delle parole al fine di trasportare il lettore in un mondo di significato profondo e di sensazione. Il poeta è il distributore di emozioni. Nel mondo in grattato della poesia, dove le parole danzano e si fondono in un turbine di emozioni, l'ortografia può ancora trovare il suo posto. Se per la poesia sia libera di giocare con le convenzioni linguistiche, la poesia può essere anche stravolgimento. Ciò non significa che debba trasformare l'importanza dell'ortografia. Infatti la curata scelta e disposizione delle parole in poesia può essere un trampolino per esaltare la bellezza del linguaggio. Una buona ortografia permette di preservare la chiarezza e la leggibilità delle immagini evocate dai versi. Le parole prescritte, senza errori, permettono al lettore di immeggersi a pieno nell'esperienza poetica, senza essere distotti dai congrui in solo certezze, ortografiche. Poco fa mi tratteremo prima di iniziare a parlare proprio di questo. Ci sono dei poeti che per scelta sono poeti fonografisti, cioè riproducono il loro dialetto locale e lo riproducono nello strutto. A volte sono incomprensibili, ciò lo dobbiamo dire. La poesia con la sua libertà creativa può apprezzare la pregolarità ortografica con un don prezioso. Un'autografia accurata dimostra l'attenzione e il rispetto della lingua a richiedere ulteriormente il messaggio poetico. L'equilibrio tra l'espressione artistica e una corretta scrittura può rendere la poesia ancora più potente, consentendo al suo impatto di risuonare ancora più intensamente nel cuore del lettore. In conclusione, sebbene la poesia possa sfidare le regole linguistiche convenzionali, può ancora abbracciare una buona ortografia. Questa combinazione tra la creatività poetica e la precisione ortografica può capire a un'esperienza letterale, ancora più rica e a pagare per chi è un poeta o per chi si avvicina ai versi. Io concludo. Grazie.